Visto che parli sempre di muffa che si forma per colpa del cappotto, degli infissi troppo efficienti, perché a casa mia ho messo gli infissi in classe A e non è mai arrivata la muffa? Parliamone! Dopo che ho fatto quel video al Castello Sforzesco di Milano dove ho raccontato a tutti che se tutti avessimo delle residenze antiche tipo Castello Sforzesco, scaldate male, senza cappotto e senza infissi non avremmo muffa, ovviamente c'è stata una piccola sollevazione di chi magari ha efficientato caso e non ha mai avuto problemi di muffa e giustamente dice ma allora non è una regola costante che se faccio un certo lavoro succede un certo problema? Ed è così, perché quello che a noi ci frega in realtà è il microclima. Quando abbiamo messo un infisso nuovo può darsi che non andiamo a modificare quello che è la situazione ambientale di casa e qui mi riferisco al controllo del tasso di umidità al punto tale da creare condensa sulle pareti. Mi spiego meglio. Per far formare un problema di muffa non basta semplicemente aver messo un pannello di polistirolo che non andava messo, messo un infisso troppo efficiente, messo l'armadio sulla parete e potrei elencarvi tutti gli errori possibili del mondo e magari in uno vi ci ritrovate. Però la muffa non si forma nel 90% delle case degli italiani, forse potremmo dire nel 30%, ma ha bisogno di una tempesta perfetta per formarsi. Cioè la contemporanea corrispondenza tra una serie di fattori, quindi angolo freddo, muro più sottile, differenze di temperatura caldo-freddo, alto tasso di umidità, pareti che non respirano, scarsi ricambi d'aria. E solo quando tutti questi fattori insieme concorrono per arrivare a quello che è lo sbalzo di temperatura ideale per far formare la condensa, ecco che si potrebbe formare la prima macchia di muffa sulle pareti che poi dà vita a quell'epidemia che conosciamo bene. Non ci sono vincitori o vinti, non è meglio in fisso nuovo o in fisso vecchio, cappotto sì, cappotto no. Quello che dovete tenere in considerazione è il clima che avete in casa. In conclusione, stai attento al tasso di umidità, non far superare il 65% in maniera stabile nelle giornate d'inverno, fai un ricambio d'aria adeguato, non ghiacciare casa, non mettere mobili appiccicati su pareti fredde. Se cambi degli infissi o metti dei pannelli all'interno, accertati di avere un controllo maggiore del microclima di casa, acquistando semplicemente un banalissimo igrometro e leggendolo. E potrebbe capitare che in casa tua la muffa non si formerà. Ed ecco svelato il segreto perché ad alcuni di voi si forma muffa e ad altri no. Ecco perché ho creato l'hashtag La mia muffa è differente. Serve sempre un'analisi per capire come mai proprio a casa tua succedono queste cose e al vicino di casa che ha un microclima diverso, degli infissi diversi, mobili diversi, figli diversi, a lui non succede. Se anche tu ti sei ritrovato in una situazione del genere, usa i commenti qui sotto e raccontami le tue disavventure e lascia un mi piace e condividi questo video se sei d'accordo che la muffa non può essere tollerata nelle nostre abitazioni. Continua a seguire Giuseppe e la chiappa muffa e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Giuseppe e basta muffa!